Oggi siamo ospiti di Informa Giovani e a tutti quelli che parteciperanno faremo un laboratorio dove innanzitutto spiegheremo come è nata la nostra radio e che cos'è e poi daremo l'opportunità a chi volesse di mettersi in onda per un'oretta, abbiamo anche tra l'altro degli ospiti molto interessanti quindi avremo modo di intervistarli e di far diventare speaker per un giorno tutti quelli che ne avessero voglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benvenuti su Campus Wave. Sono le 18.09 con un po' di ritardo dal previsto ma ci siamo. Siamo in diretta dallo spazio Gradinata Informa Giovani qui a Palazzo Ducale a Genova nell'ambito dell'incontro laboratorio Mettiti in Onda dove stiamo dando la possibilità a chi vuole di fare una web radio, far parte del nostro staff, essere speaker per un giorno oppure semplicemente regista o intervistatore oppure redattore.